La voce teatrologica Con i tempi che corrono è normale Poi ci ho ripensato E mi sono detto Normale? Normale in Italia Che ha avuto vent'anni di Berlusconi Ma in Germania? In Germania può essere la stessa cosa? Anche in Germania si conosce solo il prezzo delle cose Non il loro valore?